Resterà attivo fino alla metà del mese di aprile il dormitorio rivolto alle persone che vivono in strada aperto per i senza fissa dimora presso la chiesa della medaglia miracolosa in via Cramci nella zona poco distante dal parco Pinocchio a Salerno. Lo ha deciso l'amministrazione comunale di Salerno che insieme alle associazioni del terzo settore del territorio ha permesso da venerdì scorso nell'ambito del piano freddo di aprire il dormitorio con una serie di servizi per gli ospiti che lo vorranno per rispondere all'abbassamento delle temperature e fornire un supporto caldo e sicuro ai cittadini senza fissa dimora in difficoltà. Il servizio di accoglienza nasce dalla collaborazione tra l'Arcidiocesi di Salerno attraverso la Caritas Diocesana e la Fondazione Caritas Salerno, il comune di Salerno con i settori politici e sociali. Preziosa e costante la sinergia con le associazioni di volontariato del territorio come la misericordia, gli scout, la comunità dei diaconi permanenti e le unità di strada operative tutto l'anno. In particolare ai tre ricoveri già attivi a Salerno, quello dei barbuti, dei saveriani e del convento di San Francesco, si aggiungono ulteriori 17 posti letto, 11 per uomini e 6 per donne allestiti presso la struttura della medaglia miracolosa messa a disposizione dal parroco Don Pierluigi Nastri. Le persone potranno accedervi ogni sera dalle 19 alle 22 e saranno ospitati fino alle 7 e 30 del giorno successivo. Per accedere basterà presentarsi sul posto dove verrà effettuato un tampone rapido prima dell'accesso. Questo è uno spazio emergenziale perché tutto l'anno noi abbiamo già altre strutture dove accogliamo tutto l'anno questi nostri fratelli. Questo è per l'emergenza freddo che come ogni anno arriva. Lo scorso anno è partita questa iniziativa grazie alla disponibilità del parroco di questa parrocchia Don Pierluigi Nastri che ha messo a disposizione questi ambienti. Anche quest'anno ha voluto mettere a disposizione questi ambienti e quindi in collaborazione col Comune e la Caritas di Ocesana siamo riusciti ad attivarci. Già da questo weekend a disposizione per i senza fissa timore e senza tetto ritroviamo 17 posti letto suddivisi in 11 per gli uomini e 6 per le donne. Sono già arrivati degli ospiti? Sì, siamo al terzo giorno. Il primo giorno nessuno. Anche perché la notizia ancora non... anche perché passa in questo modo. Le unità di strada, i volontari che passano a portare ecco la cena ogni sera, gli dicono appunto che c'è questo luogo e loro poi liberamente scelgono se venire o meno. La seconda sera abbiamo avuto due ospiti, ieri sera altri due e quindi siamo al momento a quattro ospiti. Abbiamo stanziato delle risorse come facciamo tutti gli anni per garantire un potenziamento dei posti letto laddove ci fossero le richieste e per migliorare proprio la strutturazione della rete. Nel futuro c'è l'impegno all'attivazione di un pronto soccorso sociale e ad una, diciamo così, una maggiore risposta tutto l'anno ai bisogni delle persone più indigenti. Assessore De Roberto, sicuramente il Covid ha ocuito maggiormente queste situazioni di disagio dai dati in possesso anche grazie agli operatori di strada. È aumentata la sacca di persone che vive in strada e che ha necessità di accoglienza e di aiuti? Allora, rispetto alla isenza fissa di Mora, il numero è più o meno quello di tutti gli anni, cioè c'è un range dalle 60 alle 80 persone. La povertà, diciamo, ha avuto un incremento e a quella noi cerchiamo di dare risposte con gli strumenti che anche a livello nazionale sono messi a disposizione dei comuni. È breve, infatti, sarà attivo anche il bando per i buoni spesa.